bene questa quest'incontro vorrei dedicarlo a eugenio montale introdurre qui alla vita e all'opera di questo poeta che forse si può dire che assieme a un garetti sia stato il più influente poeta italiano del ventesimo secolo in seguito leggerò e commenterò due delle poesie più significative della produzione montaliana spesso il male di vivere ho incontrato e non chiederci la parola vorrei infine soffermarmi un poco sul correlativo oggettivo e sulla funzione di questa figura nel modernismo europeo incominciamo col dare alcune coordinate biografiche eugenio montale nasce a genova il 12 ottobre del 1896 è risaputo che montale avesse salute cagionevole e questa salute diciamo cagionevole lo portò ancora giovanissimo a frequentare autori classici e moderni che che legge intensamente conosce così la poesia decadente e simbolista e tra gli italiani legge leopardi dannunzio pascoli gozzano ma anche i liguri giovanni boine e camillo sbarbaro che avrà modo di conoscere personalmente nel 1916 montale parte per il fronte dove combatterà come ufficiale dell'esercito italiano sappiamo che la sua esperienza è analoga come abbiamo visto a quella di altri scrittori e poeti penso a carlo emilio gadda e a un garetti di cui ho trattato in altri incontri su questo canale montale è quindi un altro poeta diciamo che attraversa prima guerra mondiale questa guerra mondiale che è un po il fil rouge che lega i nostri poeti quelli visti e studiati commentati qui nel 1925 esce la sua prima raccolta poetica ossi di seppia esce presso l'editore piero gobetti in una collana legata alla rivista il baretti gobetti che come si sa era antifascista come lo stesso montale e che sarà poi perseguitato dai fascisti e morirà in seguito alle ferite provocateli da un'aggressione squadrista nel 1927 montale si trasferisce a firenze dove lavora presso l'editore ben porad e a modo di frequentare il caffè delle giubbe rosse che un celeberrimo luogo di incontro e di confronto della cultura di sinistra della cultura antifascista ricordiamo anche il manifesto redatto dal croce e firmato tra gli altri dallo stesso montale sappiamo che questo importante manifesto esce il primo maggio 1925 sui quotidiani il mondo e il popolo esce giustamente in risposta dal manifesto fascista firmato da gentile tra i firmatari di più rilievo possiamo ricordare i nomi di giovanni amendola emilio cecchi corrado alvaro attilio momigliano lui genaudi marino moretti matilde ferrao e molti altri nel 1929 montale diventa direttore del gabinetto viz che una nota istituzione culturale fiorentina gabinetto dal quale verrà poi espulso perché non iscritto al partito fascista lo stesso ostracismo ricordiamolo colpiva anche camillo sbarbaro anche lui convinto antifascista nel 1939 esce per leinaudi le occasioni in questa raccolta fin dal titolo risuono l'imminente scoppio della seconda guerra mondiale montale in questi fa e cupi anni si guadagna da vivere traducendo scrittori inglesi classici e contemporanei nel 1943 pubblica la raccolta finisterre che per ragioni di censura politica sarà pubblicata solo in svizzera o perlomeno inizialmente in svizzera negli anni 50 montale inizia una lunga collaborazione con il corriere della sera che durerà fino al 1973 nel 1956 esce la raccolta la bufera il cui titolo è un'allegoria della guerra ricorda bisogna poi può anche ricordare qui la poesia di clemente rebola che abbiamo letto e commentato in un precedente incontro dall'intensa nuvolalia questo è appunto il titolo della poesia di rebola anche questa era una allegoria più e meno più o meno diciamo nascosta del clima della temperie di guerra la guerra è di fatto un evento drammatico che si si presta ad essere immaginata in molte forme no una nuova barbarie possiamo dire no che che sconvolge l'europa e i suoi popoli le raccolte poetiche della vecchiaia o maturità di montale sono satura che esce nel 1971 e diario del 71 e del 72 in cui io direi che si verifica una trasformazione radicale della poesia e del suo messaggio in queste raccolte la voce di montale suona ormai ironica perfino sarcastica no mentre il tono si abbassa verso i registri più più prosaici questo abbassamento del tono è di fatto una denuncia fatta dall'interno una denuncia della ormai massificata società dei consumi perché davvero io direi che un fuori dove fare poesia una poesia pura una poesia alta una poesia diciamo di opposizione un fuori non esiste più tutto è stato inglobato inghiottito in questa massa grigia anonima no fatta di pubblicità del suo linguaggio immediatamente fruibile banalizzante e conformista vorrei adesso parlare un po della visione del mondo e della poetica di montale la poesia di la poesia in montale si esprime spesso attraverso oggetti oggetti desolati possono essere paesaggi no paesaggi scabri e aridi possono essere immagini di devastazione e di solitudine la sorte dell'uomo possiamo possiamo dire è segnata dal dolore no è segnata dall'alienazione dal male di vivere appunto questa formula diventata celebre appunto grazie a montale e d'altronde possiamo possiamo aggiungere che i tempi in cui montale ha vissuto sono stati durissimi sono tempi che hanno incrinato la fede in una poesia capace di redimere l'uomo di trasformare la società o di dare speranza e verità da qui nasce la sua disincantata e spesso disperata visione del mondo eppure in montale colpisce colpisce la ricchezza delle immagini la forza lirica del suo stile no la vitalità comunque di una lingua poetica che per bellezza e rigore direi rappresenta l'apice della lingua italiana montale ha dichiarato in una intervista intervista radiofonica del 1951 cito l'argomento della mia poesia e credo di ogni possibile poesia è la condizione umana in sé considerata non questo o quell'evento storico ciò non significa estragnarsi da quanto avviene nel mondo significa solo coscienza e volontà di non scambiare l'essenziale col transitorio inoltre nella poesia di montale torna ripetutamente l'immagine di un varco di un passaggio segreto no che sembra poter condurre a un altrove questo altrove che spesso collocato nella lontananza della memoria o di ciò che può essere immaginato molto spesso questo altrove si mostra per barlumi per illuminazioni brevi istantanee e subito perdute no queste illuminazioni sono davvero epifanie durano lo spazio di un secondo il poeta poi le perde ma qualcosa è rimasto e soprattutto è rimasta la possibilità di comunicare questo altrove attraverso le poesie l'uomo montaliano aspira a una piena consapevolezza di sé e dell'assoluto ma ciò non gli è dato se non come speranza di cogliere nella realtà l'anello che non tiene cito proprio il verso della poesia i limoni no l'anello che non tiene che cos'è l'anello che non tiene quasi un attimo l'oggetto rivelatore che lo conduca che conduca al poeta al centro stesso della vita oltre quindi il velo di maya direi no oltre l'aspetto ingannevole della realtà diremmo quindi con schopenhauer filosofo amato da montale oltre la rappresentazione del mondo per coglierne la volontà il flusso il flusso vitale che si nasconde dietro ciò che meramente appare tali chiamiamole rivelazioni appunto epifanie sono però rare no sono come dicevo fulmine tanto rare fulmine da apparire quasi fantasmi fantasmi di una verità sempre sfuggente e mai definitiva vorrei adesso dare due due parole sul lessico e sullo stile la lingua di montale si può dire è una lingua ricca è una lingua elegante aperta e disponibile al prezionismo ma anche al termine tecnico può essere questo termine tecnico la parola di botanica o di entomologia può essere un termine magari musicale più specialistico non dimentichiamoci infatti che montale è stato in giovetù in giovetù cantante e che ebbe competenze musicali molto raffinate ma è anche una lingua che dimostra una certa disponibilità per il lessico del quotidiano no quindi da un lato registro elevato e dall'altro registro medio che si si strutturano diciamo si strutturano in una in una mescola in una mistura di grande potenza plastica evocativa è questa bellezza della parola no che si oppone allo squallore dei tempi e alle brutture dei totalitarismi anche se bisogna dire che la poesia dell'ultimo montale si conforma con una eronia che suona disperata al mondo prosaico e reificato delle merci questa mercificazione contemporanea che ti tocca che ingloba anche le parole rendendo quasi impossibile insomma al poeta di elevare il suo canto oltre il grigiore dei consumi montale rifiuta gli eccessi delle avanguardie dei futuristi e dello stesso ungaretti per certi versi quella di montale è una poesia che non non distrugge dalla tradizione ma che la la trasforma la trasforma internamente che si appropria di forme e moduli per inventare però un suo proprio linguaggio la metrica montaliana presenta elementi propri della tradizione questo va detto e anche la sua ricerca di musicalità si colloca in linea con i grandi poeti di quella tradizione della nostra tradizione quindi leopardi come abbiamo visto pascoli ma anche d'annunzio con questi poeti appunto montale fa continuamente i conti la forma primaria di cui montale fa spesso uso è la quartina questa questa quartina è un elemento ma punto base delle composizioni più brevi delle sue poesie nei componimenti più estesi invece montale predilige la canzone libera sulla scorta appunto dell'amato leopardi nella versificazione dobbiamo dire che si mostra prevalente l'endecasillabo spesso alternato con il settenario questa combinazione è molto usata negli ossi ma negli ossi di seppia si trova anche un'altra un'altra unità un'altra misura che è il novenario di ascendenza pascoliana nell'opera montaliana insomma si assiste si assiste anche in realtà anche un recupero della rima rifiutata a come sappiamo dal futurismo e da ungaretti ma recuperata da montale che direi che insomma la usa in maniera dissimulata la rima c'è ma molto spesso è dissimulata è una rima interna alle strofe è quasi nascosta è una rima discreta direi poco visibile ecco adesso vorrei andare brevemente alle alle letture quindi prenderei il testi ecco i testi appunto la prima poesia che vorrei leggere e commentare e non chiederci la parola poesia scritta da montale nel 1923 e che apre la sezione degli ossi di seppia che dà il titolo alla raccolta possiamo subito dire che questa poesia funziona come l'emblema o il manifesto dei limiti che ha la poesia che hanno i poeti e l'arte in generale di indicare delle soluzioni di dare risposte positive a problemi reali e spesso disperanti qual è la funzione della poesia nella società contemporanea degli anni 20 e 30 in italia e nel mondo o questa la domanda che ci si può fare leggendo questa poesia montale rifiuta ogni forma di poesia che si richiami alla figura del vatte no del poeta profeta del poeta capace di indicare la via e la verità la poesia non può infatti offrire certezze a nessuno sono appunto i reali le promesse no di quelle formule che aprono mondi come vedremo appunto nella poesia di montale o che rivelino il significato ultimo e nascosto del reale tutto questo diciamo che va in contromano rispetto al alla poesia dei simbolisti no pensiamo alle corras a corrispondanza di baudelaire no ma pensiamo anche alla poesia degli ermetici che si ritengono in fondo dei depositari di una verità per pochi eletti di conseguenza il poeta non può neppure presentarsi come il depositario di una verità che dir si voglia no o di valori di ideali pertanto capace di orientare una comunità proprio in questa consapevolezza del limite e della relatività della parola poetica però a mio avviso risiede il grande valore umano della poesia la poesia infatti che sembra mettere in guardia i suoi lettori no a diffidare delle verità vendute come assolute di quelle verità che sono ben presenti all'uomo montale perché le ha vissute e perché le ha viste usare per costruire i discorsi della propaganda di regime no direi che quindi da questo orientamento emerge chiaramente la prospettiva antifascista anti regime ma anche laica e umanista che caratterizza la poesia di montale ai poeti sembra dirci montale con questa poesia se non è possibile appunto svelare la verità essi appunto i poeti possono almeno provare a ripartire da una negazione la negazione no appunto quel codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo ciò che non vogliamo appunto ripartire da questa negazione rifondare una poesia a partire da un non da una negazione il poeta può dunque esprimere sembra dirci montale solo messaggio negativo appunto negazioni che tuttavia sono dalla parte della verità rispetto alle affermazioni di un regime e delle sue verità dogmatiche maniche ma prendiamo la poesia non chiederci la parola allora direi proprio di legge da questo punto visto che un po l'abbiamo già introdotta ricordiamo solo che la poesia ha uno schema metrico in diviso in tre quartine e diversi soprattutto in decassillabi anche se non solo alcuni sono di lunghezza variabile che abbiamo una rima ecco la struttura qui la rima è interessante importante la rima nelle prime due quartine a bb a c d dc e si alterna nella terza con una rima e f e f ma si leggiamo sì non chiederci la parola non chiederci la parola che squadri d'ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo un polveroso prato all'uomo che se ne va sicuro agli altri e ad a se stesso amico e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro non domandarci la formula che mondi possa aprirti sì qualche storta sillaba e secca come un ramo codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo ciò che non vogliamo bene per entrare di fatto nello specifico nel merito della poesia e dei suoi contenuti vediamo subito la caratteristica dominante di questa poesia è proprio in quel non no che si ripete il non chiederci la parola del primo verso il non domandarci la formula e nell'ultimo verso questo non questa negazione che ritorna quel quel non siamo no ciò che non siamo ciò che non vogliamo come dicevo questo nome è davvero un'affermazione negativa per quanto paradossale possa suonare questa formula un'affermazione negativa d'altronde negare negare o perlomeno affermare attraverso la negazione ciò che non si è quindi ciò che a partire negare l'essere o negare il volere ciò che non vogliamo appunto in un regime è già un opporsi quindi non chiederci la parola incomincia montale no a chi insomma il lettore sta chiedendo una parola ai poeti no e i poeti questa parola non la possono più dare perché ricordiamoci che la poesia nel novecento è diventata qualcosa qualcosa di diverso rispetto alla poesia della tradizione no ricordiamoci e se guardiamo tra l'altro l'ultima quartina ritroviamo no questa affermazione questo tra questa trasformazione radicale della poesia no quando il poeta ribadisce il concetto in questo modo dice non domandarci la formula magica che mondi possa aprirti no sempre al lettore questo imperativo è rivolto la formula appunto la formula magica questa magica da raggiungo io la formula magica che possa aprire dei mondi dei mondi immaginari dei mondi di fantasia i poeti non hanno nessuna formula da dare al lettore ma possono al lettore dare qualche storta sillaba qualche sillaba secca come qui questa similitudine come un ramo no e qui che vorrei arrivare no ricordando le parole secche della poesia del novecento no ricordiamoci titoli con cui esordiscono i poeti del nostro novecento quindi gli ossi di sepia certo ma anche i frammenti gli scampoli frantumi che sono tutti i titoli delle raccolte no poetiche che aprono il secolo e che in qualche modo rendono manifesto quello che la parola poetica è diventata insomma cosa si può aggiungere no a questa bella poesia di montale si può aggiungere anche qui e si può vedere quando nella formula iniziale no dice non chiedici la parola che squadre da ogni lato questo squadre ovviamente è che apra questa parola che mostri da ogni lato l'animo nostro informe quest'animo che non ha più appunto una forma definita no è un animo appunto e l'animo del poeta che è travolto in qualche modo dalla storia alle ea lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco che questo croco è un fiore giallo è una parola preziosa tra l'altro no il croco una parola che rimanda alla poesia tradizionale la poesia dei poeti laureati ea me ricorda la ginestra di leopardi no questo croco che perduto continua al poeta in mezzo a un polveroso prato non la realtà questo polveroso prato è la realtà e quindi evidente non in questo senso il richiamo alla ginestra leopardiana e e questo sostanzialmente la seconda quartina è abbastanza trasparente dice all'uomo che se ne va sicuro no quest'uomo estroverso che si oppone all'introverso all'uomo saturnino al poeta sicuro agli altri ea se stesso amico e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro anche qui questi elementi del che richiamano una realtà abbandonata non lo scalcinato muro che ritroveremo anche nell'altra poesia di montale spesso spesso il male di vivere ho incontrato va bene infatti io direi di passare adesso alla l'altra poesia e legge leggiamo insieme commentiamo la la poesia è questa appunto appena 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 anticipato è proprio spesso il male di vivere ho incontrato e qui già troviamo questa celebre formula no spesso il male di vivere appunto il male di vivere è una formula che rimanda a un angoscia esistenziale a una una specie di nausea provocata forse dal contatto con una realtà una realtà che sembra non poter più essere spiegata una realtà che si offre appunto in maniera che offre della sua superficie opaca al al poeta la la lirica è stata scritta nel 1924 e anche in questo caso troviamo come schema metrico la quartina a quartina di indica sillabi anche anche in questo caso le rime sono importanti lo schema delle rime a b b a c d d a ma leggiamola spesso il male di vivere ho incontrato era arrivo strozzato che gorgoglia era l'incartocciarsi della foglia riarsa era il cavallo stramazzato bene non seppi fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza era la statua nella sonnolenza del meriggio e la nuvola e il falco alto levato ecco la formula ovviamente è diventata celebra la celebre formula del male di vivere che ovviamente si manifesta al poeta a partire da una serie di di elementi della realtà quindi abbiamo il rivo strozzato che gorgoglia abbiamo l'incartocciarsi della foglia che sono altrettanti simboli di questo male di vivere no come dire esteriorizzazioni oggettivazione del male di vivere no poi vedremo meglio commentando la figura del correlativo oggettivo il cavallo stramazzato perché certo questa immagine è particolarmente forte e poi il poeta continua nella seconda quartina con quel bene non seppi fuori del prodigio ecco che come dire non conobbi il bene ciò che di buono c'è fuori ossia al di là del prodigio del miracolo che schiude che rivela questa divina indifferenza quindi non c'è un bene al di là di una indifferenza che ci offerta da una specie di divinità direi a scondita come direbbe nascosta come direbbe pascal no io direi che questa divinità indifferente rimanda anche un po forse a e presenta dei tratti gnostici no se c'è un dio è indifferente no se c'è un dio non conosce l'uomo un po questo quello che vuole dirci montale e l'indifferenza divina invece si manifesta in altre due in altre sono in realtà sono almeno tre situazioni non ho la statua nella sonnolenza la nuvola e il falco che vola nel cielo no quindi sono in tre immagini di un indifferenza io direi proprio cosmica bene adesso per concludere come appunto come appunto promesso volevo commentare quella che la tecnica così importante per il novecento del correlativo oggettivo che si può dire sia davvero debitore di molta poesia no ma anche di molta narrativa modernista da elliot a pound a joyce no questo correlativo oggettivo che rimanda a un mondo fatto di cose reali concrete dure nella loro muta contingenza questi oggetti no che possono essere come montale ossidi seppia ma appunto anche pozzanghere stradine di campagna anguille eventi atmosferici come la bufera no che diventano poi invece invece proprio diventano emblemi di altro ed è come se il loro in questi oggetti in questi eventi si condensasse una particolare condizione emotiva o esistenziale che il poeta vuole comunicare al lettore abbiamo appena visto nella poesia che abbiamo letto spesso il male di vivere ho incontrato no la manifestazione del male di vivere è esteriorizzata nel rivo strozzato nell'incartocciarsi della foglia nel cavallo stramazzato no ok per cui questo era quindi sono gli elementi concreti ci tenevo a dire anche a segnalare questo non sono oggetti concreti in cui il poeta può essersi imbattuto realmente oggetti concreti che possono diventare l'equivalente sotto forma di oggetto di un dato di reale di un di un sentimento cioè il reale ci comunica il male di vivere quindi una condizione esistenziale questi oggetti reali diventano il correlativo oggettivo no appunto del male di vivere di una condizione profondamente esistenziale individuale la tecnica del correlativo oggettivo è un procedimento ben diverso dalla metafora no e dall analogia che invece sono proprie della tradizione simbolista e della poesia di ungaretti infatti cosa possiamo dire che in effetti se ci pensiamo la metafora o l'analogia si servono di immagini per evocare significati tramite legami di tipo associativo ma diversamente in montale gli oggetti si caricano di significati emblematici che spesso prescindono dalle connotazioni degli oggetti stessi no o da legami logici di somiglianza in altre parole un oggetto fisico un paesaggio o ancora una situazione un un accadimento danno concretezza oggettiva a una condizione astratta dell'esistenza la poesia pertanto non descrive stati d'animo e sentimenti pensiamo alla poesia sentimentale e romantica di schiller no ma piuttosto rappresenta elementi reali che attraverso la sensibilità del poeta sono fatti corrispondere sono correlati appunto a tali stati d'animo sono come dirà montale passione diventata cosa questa è un'altra formula interessante che usa montale questo procedimento può essere quindi accostato all'allegoria tipica della poesia medievale ma di montale l'allegoria si mostra svuotata dei suoi legami con la cultura del tempo e con l'inter discorsività che faceva sì che l'uomo medievale riconoscesse magari facciamo un esempio nella selva di dantesca memoria un luogo di perdizione o di smarrimento invece no mi montale gli oggetti si presentano nudi no senza più un significato culturale che possa interpretarli e aiutarne la decifrazione grazie a tutti